iscriviti a panino alla spina in realtà nel punto scenografico proprio dei miei video si basta magari quei mobili di casa quelle altre cose adesso posso scegliere io cosa mettere come sfondo guardate qua come mi diverto adesso qua mi trovo qua non so manco io dove mi trovo e mi trovo in un altro posto adesso in un altro posto ancora poi ti faccio così e qua che ho cambiato il nuovo sfondo posso mettere quello che voglio è bellissimo questo che bello che sono troppo felice sono felicissimo di questa cosa anche tipo qualsiasi video io vi faccio vedere magari un'immagine no? anziché mettere poi con la facecam da qualche parte posso mettermi io in green screen e mettere l'immagine di sfondo posso fare finalmente tante belle cose cosa che magari prima non potevo fare perché giustamente mi mancava lo sfondo volevo fare un vlog sulla nave da crociera ecco qua che mi trovo sulla nave da crociera avete visto che bello? oppure voglio fare un vlog sulla luna eccomi che mi trovo sulla luna bellissimo ecco l'unica cosa che giustamente devo ancora un po' perfezionare qualcosa infatti questo qua ho pure un video per testare il green screen come viene fuori per dire no? ma vabbè con calma si fa tutto si fa tutto e niente era un semplice video così test di green screen spero che vi sia piaciuto lo stesso se vi è piaciuto mi raccomando come sempre lasciate sempre un bel mi piace che quelli sono sempre belli iscrivetevi al canale fate tante belle cose ci vediamo in un prossimo video e io come sempre vi auguro una buona giornata una buona giornata e una buona notte ciao a tutti iscriviti a panino alla spina ciao a tutti